Bentornati a tutti, allora oggi video importantissimo e proprio perché è importantissimo non si perde tempo dobbiamo subito agire. Allora a chi è rivolto questo video? A tutti quelli che avete fatto l'aggiornamento ultimo di Windows, quindi chi ha installato ed è riuscito a installare, perché ricordo che non si può per ora installare su tutti i computer, soprattutto chi ha una specifica marca, i Western Digital come SSD e altri parametri che momentaneamente non si riescono a superare, quindi Windows ha deciso di bloccare dei tuoi aggiornamenti però chi fosse riuscito ad aggiornare Windows, quindi alla versione NT4H2, in questo caso bisogna stare attenti ed immediatamente andare a disattivare il cosiddetto Windows Recall. Mi sbrigo subito per farvelo disattivare immediatamente e mi spiego in tre secondi cosa fa Windows Recall. È una cosa legata ovviamente al Copilot quindi all'intelligenza artificiale, in tutti questi aggiornamenti che sono arrivati di Windows, quindi in questo di qua per meglio dire, quindi ricordo il 24H2, Windows ha installato anche una sorta di attività o qualche cosa che lavora in background, quindi sotto il computatore. Noi non ce ne accorgiamo. Che cos'è il Windows Recall? Windows Recall non è altro che quindi questo qualcosa che ci metti ground sotto, in sostanza fa dei screenshot al nostro computere ogni 5 secondi, il che significa la privacy è andata a farsi benedire. Quindi per esempio abbiamo questa miriade di fotografie, immaginate ogni 5 secondi quante fotografie in ogni computer riesce a rilevare Microsoft da noi, la nostra insaputa, e messi in un database Microsoft. Non ricordo che questo database purtroppo non è criptato, quindi che significa che oltre Microsoft se qualcuno, bravo, specie Yager, può entrare e rubare non solo dati, cioè rubare gli screen, quindi dei nostri computer. Gli screen sono delle fotografie. Quando noi facciamo un selfie, uno screenshot, sono delle immagini, quindi di tutto quello che sta facendo il desktop in quel minuto. Quindi se noi siamo su un sito, lui fa fotografie, se stiamo effettuando un pagamento fa fotografie, cioè immaginatevi ogni 5 secondi quanto lavoro facciamo noi nei computer. Ecco questi 5 secondi, quindi è come avere una camera schia all'interno del nostro computer. Quindi questo spiegato cosa fa Windows Recall. Subito cammino in quadratura perché non dobbiamo perdere tempo, non solo video da perdere tempo, cammino in quadratura, vi faccio vedere come è disattivata. Vi ricordo, prima di cammino in quadratura, soltanto che bisogna disattivarlo in maniera perfetta. Perché? Perché purtroppo Microsoft, per evitare ciò, ha legato Windows Recall in qualche modo all'esplorare risorse. Il che significa che noi, se disattiviamo in maniera errata il nostro Windows Recall, praticamente è nascosto, quindi anche se Windows vi dice di disattivarlo, non lo troverete mai e rimarrà attivato. Ora vediamo. Mi raccomando, quindi disattivarlo in maniera precisa e perfetta. Seguite il video, perché se sbagliate, dato che è legato a esplorare risorse, vi crasherà il computer e non vi funzionerà più. Il computer lo dovete riformattare, perdendo tutti i dati. Quindi, attenzione, non ovviamente inoltratevi su campi che non sono vostri. Seguite le guide, che sia mia che sia di un altro youtuber, però seguite delle guide di esperti. Quindi, non perdiamo tempo, la mia quadratura è disattivata subito immediatamente il Windows Recall. Ed eccoci qui. Allora, cosa dobbiamo fare? Immediatamente andare nel tasto Cerca e scrivere PowerShell. Una volta che questo programmino, qua vedete che diciamo è selezionato col bianco, dobbiamo cliccare Esegui come amministratore. Una volta che cliccheremo su Sì, si aprirà questa bellissima finestra del PowerShell, con la bacchettina che lampeggia. In questo caso noi dobbiamo andare a scrivere una stringa. Quale stringa è? Non vi preoccupate, come potete vedere. Io qua c'ho un documento Word dove spiega praticamente quali sono le stringhe. Non sono altre che queste di qui. Magari le metto in piccolino, le piccolisco un pochettino tutto e magari il PowerShell ora si va postando. Quindi in questo caso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, ovviamente io questo di qui non mi preoccupate ragazzi, non dovete diciamo fermare il video e stopparlo un pello, incollerò nella descrizione del video. Quindi aprire PowerShell, l'avete capito come fare? Basta che andate a cercare qua su Cerca, tasto destro, apri come amministratore. Anzi andiamo a scrivere direttamente come amministratore andiamo ad aggiungere così. E meglio, diamo un colpo di salve. Quindi questo ricapitolando ve lo lascerò in descrizione. Per vedere se voi avete installato il vostro Windows Recall cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che praticamente andare a fare il tasto destro copia di questa prima stringa tutta e andarlo incollare proprio qui dove c'è questa disciplina. Date un colpo di invio, dopodiché avete dato il colpo di invio qua proprio vi dirà che lo stato del Recall di Windows è attivo quindi significa che è attivato. Attenzione, anche se praticamente Windows vi dice che non è attivato oppure non riuscite a trovare questo Recall da altre fonti non fidatevi perché è nascosto e infatti è attivato. Questa funzione serve soltanto a capire se il Recall di Windows è attivo. Stop. Dopodiché dovete soltanto continuare con la seconda stringa. Quindi per disabilitare come vi ho scritto qui stessa cosa, copiamo tutta la stringa, tasto destro, copia e la andiamo a incollare praticamente qua su stis in 32 dove c'è la bacchettina e incollate. Dopodiché praticamente vi uscirà direttamente operazione completata significa che lui ha disattivato completamente il Recall, il Windows Recall. Quindi una volta disattivato lui non scapperà più questi screenshot praticamente nel nostro computer per prendersi lei e metterli in un database Microsoft che ho detto non è capitato, si possono entrare tutti. Ovviamente ragazzi l'ultima stringa che io vi lascerò e non sono sicuro ancora che la lascerò però diciamo il mio dovere lasciarla serve per riattivare il Recall. Quindi in questo caso che si fa sempre stringa, tasto destro, copia e la andiamo a incollare sempre qui quando vi spunta la bacchettina. però io non so chi sarebbe quella persona così, diciamo, passatevi il termine coraggiosa, ad andare a riattivare il Recall perché significa avere il ricordo scattato ogni 5 secondi in uno screenshot del nostro computer di quello che stiamo facendo. Quindi attenzione, se noi abbiamo aperto qualche sito lui fa la foto. Se noi stiamo vedendo delle foto che possono essere private nostre che possono essere di altre persone lui fa la foto e subito la mette in un database. quindi era doveroso fare questo video ovviamente io lo manderò in pubblicazione immediatamente quindi fatto di domenica immediatamente andrà in pubblicazione perché un video che non lo può aspettare che ovviamente mi sento insomma di dato che mi sto accompagnando in questo mondo di informatica magari molte persone che ancora non diciamo maneggiano bene i computer non conoscono bene il mondo dell'informatica si troveranno nemmeno a sapere cosa sia questo software che ci sarà all'interno e quindi non ne conoscono nemmeno l'esistenza. E' giusto perché è una cosa veramente che la privacy è K.O. totale. Quindi non perdo altro tempo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bisattivate immediatamente. Ciao a tutti.